ben ritrovati ben ritrovati nel mio canale in questo mio nuovo video allora come ho già detto oggi nella puntata di lanci uve nell'apertura diciamo in quella parentesi ampia che ho aperto ero in dubbio nel fare o meno questo contenuto in riferimento a quello che è il furto l'ennesimo scandalo del che abbiamo visto ieri sera a San Siro partendo da quelle che sono state le dichiarazioni di Antonio Conte ora chi mi segue sa benissimo che a me Antonio Conte non piace assolutamente perché insomma per me ha rotto con il diciamo con l'ambiente Juventus in maniera anche abbastanza grave poi ognuno la pensa come vuole per carità però c'è da dire che quando dice qualcosa che penso sia una cosa che ormai è sotto gli occhi di tutti ed è anche abbastanza palese gli va dato merito è alto effettivamente che c'è del vero almeno ripeto per come la penso io allora ieri sera inutile che adesso sto a riportare quello che è stata la sua dichiarazione ad azone nel post partita inter napoli si è lamentato del bar io da informatico ho sempre detto e lo ribadisco quindi quello che ha detto Antonio Conte un po ricalca quello che il mio pensiero io da informatico sono pro tecnologia quindi vuol dire che sono assolutamente favorevole a quelli che sono degli strumenti che possono essere d'aiuto e di supporto agli arbitri perché arbitrare obiettivamente parlando non è assolutamente semplice io lo vedo fra virgolette nel mega piccolo neanche un millesimo dire al confronto di quello che è l'arbitrare in serie A quando arbitro diciamo così dei ragazzi perché insomma ogni tanto mi capita di arbitrare dei ragazzi però ripeto è un qualcosa molto 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 ma molto diverso rispetto a quello che è l'arbitrare in serie A me ne rendo conto però quando si è in campo oggettivamente magari alcune cose non si vedono nella maniera corretta nel momento in cui esistono dei supporti come può essere il VAR come può essere non so la goal light technology soprattutto quest'ultima che ti ha risolto completamente quello che è il famoso problema del gol fantasma che ci si trascina dalla notte dei tempi che adesso è stato completamente risolto il VAR è uno strumento che può dare una mano all'arbitro per evitare di incorrere magari in delle situazioni che possono generare un errore perché comunque un minimo di errore c'è sempre perché comunque rispetto alla goal line technology il VAR o l'ausilio del VAR c'è la discrezionalità dell'arbitro che deve giudicare una situazione per cui magari per un arbitro potrebbe essere un rigore palese per un altro magari no invece il goal line technology la palla se passa quella famosa diciamo linea bianca e goal e non ci sono se e non ci sono ma ritornando al VAR il VAR è uno strumento utilissimo secondo me e che debba essere utilizzato in maniera un po' più sensata perché a volte viene usato a volte no ci sono delle situazioni che portano a una sorta di soggettività dell'episodio in sé poi il fatto che come appunto abbiamo visto tante volte soprattutto con la Juventus alcune situazioni vengono considerate o prese in esame in un certo modo e altre magari molto simili non vengono neanche attenzionate dal VAR è una cosa obiettivamente assurda quindi il VAR è sicuramente uno strumento che può dare del supporto alla classe arbitrale però deve essere usato insomma c'è con un senso e con un criterio logico perché quello che abbiamo visto ieri a San Siro mi riferisco al rigore concesso ai cartonati che poi fortunatamente il karma almeno ci ha pensato facendolo io sbagliare a Cialanoglu però hanno avuto la seria e concreta possibilità di portarsi in vantaggio ed eventualmente poi arrivare anche a vincere la partita è comunque un episodio che avrebbe potuto diciamo rompere gli equilibri di una partita che stava finendo o perlomeno si avvicinava alla chiusura con uno zero con uno a uno a uno quindi con un pareggio che tutto sommato secondo me è anche giusto in quell'occasione su Danfris entra Anghissa però entra non come nel piede a martello come qualcuno dice perché non sa bene cos'è il piede a martello questa è la gamba sedio col piede a martello entro così entro così per far non male però comunque sia entro così e posso far male e nella situazione invece che abbiamo visto ieri Anghissa mette il piede per prendere posizione per avvantaggiarsi sulla palla che gli sta arrivando tra l'altro addosso e Danfris entra diciamo così di prepotenza e prende posizione e poggia il piede su quello che è il colpaccio di Danfris e scivola verso il basso come appunto possiamo vedere alla fine in questo brevissimo frame della situazione quello non è assolutamente rigore per come la vedo io poi Danfris va a terra scivola a terra si rotola a terra insomma a scuola barella scuola lautaro sappiamo benissimo come funzionano le cose e magari se andiamo a vedere a distanza di 24 ore ancora lì che sta rotolando poi il bello che loro soprattutto quelli insomma i canali cartonati tra il cuoco italo francese a tutti gli altri che dicono che assolutamente rigore che appunto ci sta e hanno criticato il Consensao il nostro Consensao chiamandolo un simulatore ma cosa dovrebbero dire come dovrebbero stare le cose le situazioni perché nel rigore concesso a noi contro il Lille Consensao entra in aria dribbla un primo difensore se ne trova subito un altro riesce a far passare il pallone non passa lui perché il difensore del Lille anche ingenuamente mette la gamba di traverso quindi praticamente a 45 gradi Consensao impatta su quello che è la gamba del difensore c'è da dire che effettivamente lascia un po' indietro la gamba però insomma lo fanno tutti non mi sembra insomma una qualcosa che è andato a cercare lui ha messo la gamba lui ha lasciato un po' la gamba indietro il contatto è netto assolutamente rigore sacro santo senza se senza ma qui non è la stessa cosa perché qua c'è uno sfregamento praticamente il piede anche sa passa su quello che è la tibia di Danfris quasi scivolando dall'alto verso il basso in maniera molto leggera quindi qua non c'è una sorta di danno qui c'è una sorta di cerchiamo di recuperare magari potere possiamo fare così così facciamo fare il rigore così come è stato tra l'altro quindi quando gli interisti vengono sotto il mio canale mi dicono di tutto per delle situazioni con Consensao che non esistono che non ci sono né in cielo né in terra dovrebbero stare zitti quantomeno e mi riferisco non solo ai canali cartonati ma anche quei dementi che vengono sotto il mio canale e continuano a insistere e dandomi insomma una serie di epitote impronunciabili vengono insomma mi offendono cerco di offendere anche sulla persona sul fatto che sono grasso sul fatto che non ho capelli non argomentano quello che è poi l'episodio cercano appunto di offenderli però lo ribadisco ancora una volta perché ogni tanto va ribadito come concetto non siete pubblicati i vostri commenti non sono pubblicati li leggete solo ed esclusivamente voi fate una fatica inutile io come potete vedere potete notare sotto i miei video i vostri commenti o perlomeno il 90 per cento ma direi anche 95 per cento dei commenti sono o risposti o hanno comunque un check che fanno capire che ho letto il commento qualora non c'è questo check qualora non ci sia la mia risposta vuol dire che il vostro commento per qualche motivo è nell'anticamera del cesso poi ci sono alcuni utenti nuovi che ovviamente non ho mai approvato nel momento in cui vedo quali sono vedo i loro commenti approvo l'utente da lì in poi non ci sarà più bisogno di andare a provare i loro commenti però nel momento in cui sono degli utenti nuovi nel momento in cui sono dei coglioni patentati come appunto quelli là che vengono a insultarmi me ne dicono di peste e corno ma a me sinceramente mi frega un cazzo tra l'altro sono anche coglioni perché mi danno una visual e quindi non sanno neanche che mi fanno un piacere possono mettere il dislike chi se ne frega però comunque è un'interazione se mettono un commento è un'interazione ancora aggiuntiva perché youtube non va a distinguere un commento positivo da un commento negativo quindi insomma oltre ad essere dei dementi siete anche degli idioti perché comunque sia visto che è considerato che qui insomma si fa una sorta di contenuto per cercare appunto un po' di visibilità per cercare appunto un po' di dire la propria così come banalmente mi date anche voi una mano ma lo fate insomma con diciamo magari non in maniera diretta però lo fate comunque sia questo è quello che pensavo in merito alla situazione conti io vi ringrazio vi saluto vi invito qualora non l'avete già fatto ad iscrivervi al canale assolutamente importante attivare la campanellina per essere avvisati nel momento in cui vengono postati i nuovi video nel momento in cui vengono fatte delle nuove live like se avrete apprezzato quello che il contenuto mi raccomando quello aiuta veramente quello che è l'algoritmo di youtube e ci tengo in maniera particolare penso aver detto tutto grazie e fino alla fine sempre solo e nonostante tutto forza juve è in due culo all'interno